Allora, eccoci tornati in studio, proseguiamo con le pagelline, eravamo rimasti a... Palumbo, sei, io sei e mezzo, no io sei perché è bravo, fa bello giocare, però certe volte si ingaponisce. Poi se avesse fatto quel gol che lì... Lì sostiene e gliela ha parata il difensore. No, probabilmente gliela ha toccata, però quello non è il piedeforte suo, se gli arrivava sul sinistro forse l'ha buttata. Palumbo deve velocizzare la giocata, io non capisco perché fa sempre tre, quattro tocchi in più, perché anche perché poi se continua così gli altri lo sanno, no? Che gioca sempre un tocco in due in più, per cui dopo gli vedono le misure. Partipilo. Eh, qui è una cosa difficile, eh? No, lo sei perché... Per l'assist. Comunque dà l'assist, sei più allora. In collaborazione con Regione. Però dopo non bene, eh? Però non ha fatto una gran partita. Però avete fatto caso che quando è entrato Falletti lui ha cominciato a giocare bene? Che secondo me entra Falletti, lui si trova... Non so se prende fiducia o si intendono... Se tu hai visto dall'ingresso di Falletti, poi... Falletti deve giocare. Quelli che hanno criticato Lucarelli perché l'ha mandato in campo troppo presto e poi e là. Se vi ricordate, ha fatto né più né meno di quello che ha fatto in Zericino. Dici tu la condizione non ce l'hai. Vediamo che... Poi ha detto ti metto dentro. Almeno giochi e poi... Adesso c'è stato questo piccolo. Adesso c'è quello... Che c'ha? Ancora non so se dovrebbe fare ecografia oggi. Però io ci ho parlato quando sono scolari. Quando sono scolari... Sabato, mi pare, abbiamo giocato. Sto ringoio neanche. Sì. Abbiamo giocato sabato e ci ho parlato e ho visto che camminava tranquillamente e mi ha detto lunedì faccio ecografia. Dice però spero... Comunque insomma non è uno stiramento serio. La robetta muscolare. Siamo tra la contrattura lo stiramento. Adesso trovo a fare ecografia ma secondo me 30 giorni sott'anni. Però questa è la mia opinione. Derby però mi sa che lo sa. Beh, senti, se non salta il derby Gianni poi su questo... Tu forse sei l'esperto di me. Se non salta il derby si fiaccherà proprio un... Un affaticamento. Ecco, un affaticamento. Bravo, un affaticamento. Può darsi anche perché lui mi ha detto che... Ha avuto un po' paura però si è sentito un po' tirare. Può darsi? Adesso su questo si vedrà. Quando l'abbiamo visto uscire sembrava grave perché si era messo le mani su di Angelo. Però ecco, insomma, sono 30 giorni sott'anni. Il problema è chiaro che il derby eccolo. Meglio. Molperluccia magari è una battaglia. Vediamo. Ci siamo arrivati proprio a Falletti. Seppio. Falletti sì perché comunque... Ha dato un po' di brio, sì. Niente di clamoroso. Poi due palle scoperte di Partipilo su Falumbo. Ma poi lì aveva creato l'occasione di Falumbo. A parte quella, ma secondo me la più grossa è quella che lui fa la finta. Se la sposta sul destro e tira purtroppo c'entra un difensore. Quello andava a porta e era pericoloso. Anche lì l'aveva servito Partipilo. Lui ha fatto finta di tirare e è rientrato a destra. Per farlo contento voglio dare sei più anche a Raul Moro. Che per me era da sei però va bene. Che ha fatto una giocata. Beh però dopo quando... Ha fatto una giocata. Beh no ha dato anche due tre. Ha fatto due o tre belle giocate con Corrado. Ha fatto una bella giocata per questo gli do il più. Dopodiché è entrato come solito... Secondo me tu sei prevenuto perché della Lazio. No, no. È entrato timidino. Secondo me sì. Ero prevenuto con Crecco. Se era della Roma... Ero prevenuto con Crecco. Sette e mezzo con la Roma. Perché secondo me era scarsissimo. Se avessimo preso Bove tu gli davi sette e mezzo. Te lo dico io. Questo è della Lazio e tu parti male. Secondo me se avevamo preso Bove ti dico facevo i complimenti al Leone. Quindi... Ma comunque guarda questo ragazzo è bravo. È un po' leggero. C'è però Moro per esempio è bravo no? Però avendo scarsa attitudine difensiva e poi un fisico non proprio da diciamo da... Corazzieri. Cioè dove lo metti? È difficile. È il ruolo di Falletti. Ecco. Il vice Falletti. E' certo. Infatti è questo. Però è molto meno... Ma Capagni è sparito da il grado a recuperare? No, ha messo Moro. No. A parte che lui è recuperato perché l'anno scorso ha giocato. No. Però Moro potrebbe fare la stessa stanza di Falletti perché noi su questo siamo vulnerabili. Perché ve lo ricordate? Non so. Forse Gianni... Però c'è almeno fisico. Quando noi abbiamo criticato Falletti era giustissimo criticato. Sì. Però dico poi dopo il giocatore è venuto fuori. Dopo è venuto fuori. Quindi questo ragazzo che ricorda... Ma però è anche lì. Era a livello di un stand elettuale. Non mi sento di dire... No. Perché quando dopo ha diventato un giocatore qualcuno lo riconosce che ha detto... Ci sta una bella differenza. Ma motivato perché ai tempi faceva veramente... Eh ma c'è stata una bella differenza però. Senza senso. Perché Falletti era di proprietà. Mentre Raul Moro sapete no la formula. Arriva con un prestito oneroso a 330 mila euro secco che può lievitare... Posso dire che è una follia? Ma beh. Può lievitare di ulteriori 310 mila euro al raggiungimento di alcuni bonus. Con senza né un diritto o un'opzione di riscatto e torna direttamente alla Lazio. Quindi se fa bene gli hai pagato 330 più 310. Mamadou. Mamadou. Aspetta scusami. Unipali. Questa formula è stata pubblicata su Radio Cor. La Lazio è quotata in borsa. Comunicato ufficiale Lazio. Non è che ci stiamo inviando a niente. Quindi è sicuro al 100%. Mamadou per me è bene. Sei più. Per me sei e mezzo. Sei più perché ancora si vede che non ha forza nelle gambe. Però è entrato bene. È entrato veramente bene. Ma sono contento perché per esempio a me nella prima non aveva impressionato. A differenza... Piano piano acquista la condizione. Qui mi è pazzo bene. Più che altro speriamo che non si riferma subito. Allora Favilli sì. 6 e mezzo. 6 e mezzo. Anche se se mangia un gol. Ho capito. Lì finisce 2-0. Gioca contro tutti gli avversari. Gioca contro l'arbitro. Gli fischia tutto contro. Gioca ammonito dalla mezzota. Ecco parliamo un attimo. Fa un gran gol. Insomma... Parliamo un attimo. L'ammunizione che ha preso Favilli? Ma non è follia. Follia pura. Follia pura. Infatti l'avevi detto bene prima. Quando hai detto che l'arbitro ha arbitrato male. Male. Un arbitro scarso. Un arbitro scarso. Questa partita ha arbitrato malissimo. Ma per tutti. Perché poi con Favilli ha ingaggiato quasi una guerra personale. Gli ha fischiato anche sul gol e loro. C'è una trattenuta. Favilli trattiene quello trattiene e ci fischia punizione e gol. Cioè questo finalmente è l'attaccante che davanti fa sportellate. Che non gate mai. Se avete fatto caso cascano sempre l'avversario. Cioè uno che protegge la parte. Questo secondo me gli diamo 7 perché ha fatto quell'errore sul gol. Ma secondo me anche lì è un vizio quasi di troppa sicurezza. Lì ha visto questa palla e ha pensato questa la butto dentro facile. Perché ce l'ha nella giocata. Ma ti abbiamo pensato non era Favilli no? Invece era proprio lui. Era un errore non da lui. Secondo me ha pensato questa la butto dentro facile. Un po' di sufficienza. Di sicuro fare parto da solo sarà dura per Donnarumma. Se giochiamo ancora con questo modulo. A secondo te Gianni la Ternana può giocare con 4-3-1-2. Magari. Forse con questi giocatori. Secondo me sì. Sarebbe perfetto. Come sai Lucarelli ti dice l'unico modulo che non farò mai è 4-3-1-2. Mi sto qui sento la simpatia di Lucarelli dicendo questo. Lo sai. Però 4-3-1-2. Se l'1 è Falletti. E dopo allora gioca un Gendravanti che è Favilli. E Donnarumma. 3 giocatori offensivi che adesso... Lei di Partipilo. No ma scusa. A parte Falletti pure. Puoi giocare con Partipilo e Falletti un tempo per uno. No. Ti dicevo. Non so se tu sai che ultimamente poi hanno messo 5 sostituzioni. Lo so. Ecco. Tante volte. Quindi puoi alternare i giocatori. Partipilo comunque Enrico. Il Partipilo attuale. No ma non è perché non uscire. Non è proprio Partipilo dell'anno scorso. Ma possono giocare un po' per uno no. Magari una partita gioca Donnarumma. Ma io dopo la tiro cross comunque. Lasciamo perdere. Ma dimmi subito. Dalla regia mi dicono che dobbiamo dare il voto a Cristiano Lucarelli che però non era in panchina. Eh. E per cui che voto gli do a uno che non era in panchina? A Vaniglia. Diamo il voto a Vaniglia. Diamo il voto a Vaniglia. Eh sei più. Fotto. Però la squadra l'ha messa in gambo Lucarelli quindi stavolta ci merita 7 meno. Ma la partita l'abbiamo detta. D'altro partivano delle bordate da dove stava il mister a sentire la partita su... Eh ce crede. Non so se era lui che dava quelli cazzottoni che sentivano le botte. Senza le altre volte ti sentivano se la sentivano. No ma mica. Non lo so eh. Però si sentiva bom bom. Secondo me un cazzotto Lucarelli leggerissimo non è. Mi dà quest'idea eh. Allora ti ce la volevo dire grossi. Dilla dilla. Lo puoi mettere a posto. Ah si. Rimetti il tuo nome. Allora voglio dire grossi. Secondo me la tenete già a 4-2-3-1. Stai gli dando troppo. Ma adesso? Adesso. Fin d'ora? Subito. Tu avevi detto quella cosa di Palumbo e bisogna riconoscertela. Sì ma mi sono reso conto che alla fine. A Parma. Ma 4-2-3-1 quindi due centrocampisti tanto per. Due centrocampisti sicuro di tacchio. Eh. Poi quando sta in forma bene Coulibaly che secondo me i due insieme. Perfetti sì. Sì. Dopo di che allora c'è un problema. Che non c'hai l'esterno a sinistra. Al limite Raul Moro o Capanna. Può giocare a Partipilio. Cassata pure ci può giocare a sinistra. Partipilio gioca a destra no? Beh beh può giocare a sinistra. Falletti fa il trequartista. A sinistra. A sinistra gioca a Palumbo. Potresti far giocare Palumbo. Che potrebbe farti l'elemento equilibrante nel senso che non è proprio un attaccante. Può dare una mano al centrocampo quando serve. E soprattutto quando scendi. C'hai Palumbo a sinistra. Partipilio a destra. Alla fine sarebbe qui. Perché a me sta squadra. Sparagnina. Secondo me non ce l'ha nel DNA. Quello che dite voi che si deve coprire e colpire. Beh con la regina però l'ha fatto. Secondo me. Ma l'ha fatto. C'è da dire che la regina è senza dubbio la squadra più forte che abbiamo affrontato finora. Più dell'Ascoli secondo me. Beh assolutamente. Anche se l'Ascoli è una squadraccia. È una squadraccia nel senso che è difficile da affrontare. Certo. Beh ma. E fino a qui arriviamoci. I sti precedenti. Come poteva finire Ascoli cittadella? Zero a zero. Ma più che altro con frattura dell'Ulma pelleali. Botte da orbi e pulsi da tutte le parti. Va beh. Io sono d'accordo con te Enrico. Tremenda. Però non è il momento. Probabilmente no. Secondo me noi però non abbiamo i difensori per fare questo gioco. Perché ci abbiamo. Sorensen e Bogdan sono bravissimi ma sono lenti. Appunto. E faticano ad andare anche in forma. Capuano un po' più veloce ma non è un fulmine di guerra. Non è un diciottenne. È arrivato anche Mandovani che è più veloce. Sì ma Mandovani dove arriva il 31 luglio. Non il 31 agosto. Mandovani è capace che è pronto per fine settembre. Punto. Sai che c'entra? Allora anche Cassata ha fatto la preparazione. Secondo me sta in piedi col vento a favore. Vabbè Cassata però l'altro anno la stava fermo. No capito. Ti ripeto. Ci abbiamo tante incognite. Tante. Tante. Ma perché dobbiamo parlare del mercato? No. Perché dopo il mercato lo diciamo. Voglio parlare di questo campionato. Perché il campionato ha cominciato. Qualcuno dice ci abbiamo tre punti in più dell'anno scorso. Secondo me te l'ho spiegato. Abbiamo già detto. Ci abbiamo punti in meno. E non vedo neanche questo gioco brillante né in un verso né nell'altro. Perché dici oh quest'anno giochiamo diversi dietro. Quindi? Quindi io direi giù. Dopo c'è il derby Enrico. Giù il bando. Se tu vai a fare. Ascolta fammi finire. Molini. Vorrei finire un discorso. Ma non è questione di Molini. Allora questa è una squadra. Parlo a Lugarelli. Ma dicevi che Palumbo doveva giocare sulla linea del quadro. Per interposta persona. Parlo a Lugarelli. Se si snatura pure lui. Rischi di fare un casino grosso. Perché Lugarelli non ce l'ha per l'indulare di DS1 che si mette dietro. Lo scorso ha fatto 3-5-2-6 mesi. Ha fatto di necessità. Allora anche Toscano. Posso dire una cosa. Mi dà 30 secondi senza interruzioni. Sì. Perché mi sembra che ti stai imbrogliando. Non mi sto imbrogliando. Perché per dire. Toscano vince il campionato di C1. Giocando un bellissimo 3-4-3. Parte il campionato di Serie B. Gioca. Le prime giornate è il miglior calcio di tutto il campionato. Di Serie B. Raccoglie. Un punto. Alla fine si è rimesso 3-5-2. Perché dice. Allora. Lugarelli uguale. L'anno scorso. Giocava un bel calcio. La ternata ha giocato un bel calcio. Solo che raccoglieva poco. Ah. Quindi. Anche perché era un'esperta. C'era giocatori. Benissimo. Molti più in Serie C. Si è coperta. È andata meglio. Indubbiamente. Però. Quel bel calcio. Va bene. Non l'hai visto più. Quest'anno però. Con un anno di esperienza in più. Con qualche rinforzo in più. Secondo me. Potresti anche riproporlo. Quell'idea di gioco. L'abbiamo riproposto a Modena. Hai visto che è successo. Per dire. Senti. A Modena non hanno giocato. Cioè. Non è che dici. Oh. È giocato bene. Su questo potremmo discutere. Anche tre ore. Ma la missione finisce. In linea del principio. È giusto. In linea del principio. È giusto. Resta il fatto che tu. C'hai una partita difficilissima a Parma. Se vai su. Pigli l'imbarcata. Dopo c'hai il derby. Se arrivi al derby. Che hai preso un'altra. Sì. Ma io. Ho la mia paura. Qual è? Che tu vai a Parma. Giochi coperto. Sparagnino. Ho capito. Ma non sei d'accordo su quello che dicevamo prima. Che è detto. Che tutto. Può essere giusto. Il contrario di tutto. Però. Sei d'accordo. Che questa squadra. Se si mette dietro. E non prende gol. Davanti. In qualche modo. Colle lo fa. E io comincio a dubitare anche di questo. Beh. L'hai fatto sempre. Sì. Però. Non c'hai questa produzione offensiva. Che degli anni scorsi. Secondo me. Lo fa sempre. Perché Falletti. Sta a mezzo servizio. Donna Roma. Ha un quarto di servizio. Pettinari. Però non ce l'avevi. Bene. Bene. Ma c'ha un'ora ancora. Un'ora. Lo vedi che non regge più di un'ora. Ancora. Almeno. Diciamo che su questo potremmo discutere. Alla prima partita. No. Perché tu abbia torto. Non ci abbiamo ragione noi. Alla prima partita fu sostituito dopo 45 minuti. No. Sono tutti opinabili. Può essere anche giusto quello che dici tu. Per definizione. Io non lo so. Ho dei dubbi. Io ancora non vedo una squadra che non è né carne. Forse perché io. Per mia indole se avrei uno che dice. Intanto non prendiamo gol. Ma tu giocare a difesa non accade. Specialmente con gli attaccanti che ci abbiamo. Sì ma questi famosi attaccanti che ci abbiamo. Ce n'hai uno. Beh insomma. C'hai Favilli. Al 75%. Falletti ce l'hai. E' infortunato. Falletti è rientrato. Non stava al meglio. E si è infortunato. Donnarumma sta fuori. Pettinari sta fuori. Donnarumma sta in banchina. Si è in banchina. Ma non è entrato. Però prima o poi. Non è che questi sanno. Partipilo è riconoscibile. Non è che mancheranno tutto l'anno no? Lo so. Gigi lo so. Io ti sto dicendo. Partipilo ha fatto un gran gol con la regina. Insomma non mi puoi venire a dire che l'attacco è scherzo. Io ti sto. Non ho detto che è scherzo. Perché dici che ho detto che è scherzo? Non l'ho detto mai. Non mi metti in bocca cosa che non l'ho detto. Io ti ho detto che adesso. Al momento vedo una ternata che non è né carne né pesce. Perché non è solidissima quando gioca sparagnina. Non è prolifica quando gioca un po' più sparazzina. E' come l'ho detto io all'inizio. E' una mediocrità al momento. Allora il gol detto lo fa su. Perché i punti poi rappresentano una classifica mediocre. Questo si però. Questo è. Per cui se dovessimo trovare di fronte a un bivio. Tu bivi. Pubblicità. DR 6.0. Voyager 1. Amore a prima vista. Come. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti